Ehi, possiamo controllare le comunicazioni? Whisper, lo abbiamo fatto 20 minuti fa. È un'operazione giornaliera. Lo so, ma volevo portarmi avanti. Va bene. Prova, prova, uno, due, prova, mi ricevi? Affermativo. Secondo il protocollo di comunicazione, devi dire forte e chiaro. Basta così. Eh, d'accordo. Riprendiamo domani? Bene, ragazzuoli. Bentornati su XCOM Chimera Squad. Ah, dovevo vedere perché ieri, montando il filmato, ho notato che lei ha lasciato tutte le cose, no? Il tessuto fluido. Il medikit che ce l'ha? Lei? Bene, andiamo a fare la missione. Allora, questo ci dava... La ricerca. Ah, non mi è besta di sopra. Bene, andiamo a fare questa. Granata a frammentazione. Bene. Le forze nemiche potrebbero mettere le mani su un dispositivo cruciale per la missione. Dovete disattivarlo. Quando avrete l'autorizzazione, distruggete il dispositivo in questione. Cercate di tenervi a distanza. Dispositivo localizzato. Distruggetelo. I colpi a segno sui nemici durante l'eruzione stordiscono. Lui. Tutte le unità che entrano da qui ottengono il 25... Durante l'eruzione. Lei? Schivata. Anzi, no. Facciamo eruzione! Adesso entriamo. Spara a lui. Spara a lui. Spara. Anche se non mi è capace. Non mi senti. Spara a lui. Grazie. Lui è stordito. Mio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusate, ragazzi. Scusate, ragazzi. Scusate, ragazzi. Scusate, ragazzi. La tua mente svanisce. Scusate, ragazzi. Mi blindo. Scusate, ragazzi. Tutti i nemici non aggressivi a guarda di questo ingresso rimangono sorprese. Tutte le unità che entrano là qui tengono 3 di mobilità del round. Colpi critici. Eruzione. Beh, ma non c'è un po' che c'è. Scusate, ragazzi. Man. Siamo qui per quel bersaglio. Rompi il bersaglio. Rompi il bersaglio. E non gli fa il contattato. 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 C'è ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi riposiziono. Mi sono protetto. Non è un segreto. Il cibo interspecie può essere pericoloso. Allora come fa Burger Palace a garantire la sicurezza ai suoi clienti? Semplice. Ogni bulbo aromatico contiene degli indicatori legati alla specie che possono mangiarlo. Una volta cotto il panino, il contatto fisico con le specie inadatte scatenerà in esso una reazione protettiva. È la nostra garanzia di compatibilità. Se non potete mangiarlo ve lo farà scoprire. Burger Palace. Nuovo nome, nuove garanzie, stesso gusto fantastico. Bene. Abbiamo fatto un po' di spesa. Vediamo qua cosa ci dà. Questo potenziamento aumenta le munizioni su un'arma in cui è montata più due. Questo potenziamento se è installato garantisce anche i colpi a vuoto infliggendo un piccolo danno più due. Questo potenziamento permette un uso più rapido e versatile dell'arma. Il colpo standard non fa terminare automaticamente il turno. Bene. A chi possiamo darlo questo? No, va bene. Non mi interessa. Funzione guida. No, vorrei fare prima qualcos'altro se possibile. Vorrei fare qualcos'altro perché ho il medico ancora in cura. E mi serve lei. Ah, ma questo... Android monodonali cosa fa? L'unità Android possiede equipaggiamento e mod per Android d'armeria. Nuovi oggetti nell'area di fornimento. Rivestimento di schiuma balistica. Nuovo oggetto nell'area di fornimento. Servo corazza. Mac 2. Quindi il prossimo... Che faremo è quello. Allora, passiamo la giornata. La devo fare per forza. Come si passava la giornata? Da qui? Completa la missione. Elimina la finicia grigia nel cortile. margine, quindi è una missione principale bene, possiamo andare pure con questa squadra allora andiamo in armeria datazione nano medikit, anzi è già potenziato e facciamo un altro nano medikit grazie A lei cosa gli possiamo dare? Abbiamo fatto questo Bene ragazzuoli Questa missione ce la lasciamo per domani Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like A commentare per darmi consigli su questi altri giochi che sto portando sul canale O se volete consigli A condividere per far conoscere e crescere questo canale ad altre persone Che potrebbero essere interessate agli episodi e ai giochi che sto portando su questo canale E ad iscrivervi se non l'avete già fatto Un saluto da Philips89 Alla prossima Ciao